Stato di emergenza prorogato al 30 aprile 2021, divieto di spostamento fra regioni confermato fino al 15 febbraio a prescindere dal colore e introduzione della zona bianca. Sono le molteplici novità introdotte con il decreto legge contenente le ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, approvato nella notte tra il 13 e il 14 gennaio dal Consiglio dei Ministri, novità spiegate da un comunicato notturno di Palazzo Chigi. Il provvedimento proroga dunque al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del coronavirus ai sensi dei decreti legge numero 19 e 33 del 2020. Il nuovo decreto conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria abitazione, residenza, domicilio. Per quanto riguarda gli spostamenti dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 sull'intero territorio nazionale, è consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la podestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Questo spostamento può avvenire all'interno della stessa regione in area gialla e all'interno dello stesso comune in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Il decreto legge approvato dal governo istituisce poi una cosiddetta area bianca, nella quale si collocano le regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi per tre settimane consecutive inferiori a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area bianca non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni o rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle stesse aree possono comunque essere adottate con DPCM specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico. In considerazione della necessità di agevolare l'attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, il nuovo provvedimento istituisce inoltre una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della regione o provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue in sussidiarietà le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione della somministrazione dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute.